ANGELONE FINU CANONE WAH 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 Angelo Sì? Gioca bene eh Ma quando è che ci cambiavi il computer? Io? No io aspetto Anche i loro Comunque ad agosto escono dovebbero uscere le nuove GPU E sono pochi Nel 1080 Il problema è Angelo OOOOH CHE SONO Il problema è Angelo che io ho speso tutto Cioè con questa storia di Fai più vaggi possibili Eh ma Non mi resta che piangere Poi mi devo comprare il cappellino della Qatar KETER KETER Airways Doha Va da sé che Eh È un attimo Angelo Ma il matching funziona bene Come? Il matching funziona bene Le cose giuste Quei dieci minuti d'attesa che ti fanno passare la voglia di ogni cosa Tranne del Ma Sto giusto te lo porti il drone Sai che sono molto scettico Scherzi a parte Ok Portarlo o meno Per tutta una serie di motivi Il primo è che sono in Cina In una parte particolarmente sensibile Sì infatti Ti prendono come spia Eh sai Cioè non è che vanno tanto per il leggero i cinesi Non è che dicono Vabbè Ci pensiamo un po' su E poi E poi vediamo se farti Se metterti in galera Ti mettono in galera e vaffanculo Per farti capire Ma come l'ha fatto doc? Sembra un Omosessuale Vabbè Il Questo Poi L'altro motivo è che Toccherò Uno non so neanche se starò bene A quelle altitudini Due Sperando insomma Che tutto vada per il verso giusto Però c'è il Il problema del Anche se sto bene Mi conviene portarmi Tre miliardi di chili Visto che toccherò quasi Cinquemila Eh appunto Come non ho detto No non lo so Sono indeciso Guarda ci sto ancora pensando Non sto scherzando Se ti prendono per spia No hai ragione Se ti prendono come una spia Sai i cinesi non è che ci mettono Tanto per il sottile Io non so se sai Come operano Ma non è che Ah no vabbè Ci dispiace Cioè ti buttano in galera E ti dicono Vabbè ne abbiamo un milione Ma che ce frega a noi No Capito? Eh sì Sono tutti bravi Ah Votare Mag Edd Maltin Lasciano Ah bene Ci ammazziamo Quicendo Sì Solo andare bene Mi sembra di capire Angelo Ma sei sicuro Di quello che sta per fare? Sì Allora siamo a barri adesso Ma sono scemi Ma sono scemi Zio ma lo vedi Quello che fanno Sì Ah beccato Vuoi fuggire la pompa Ma Ma adesso Sai che mi fa più paura Loro che Eh Cioè Non so se Considera Le loro nemici Buono Ci hanno colpito No Lo stanno Rianimando Ma che stanno ucciso Che ho vinto Questa mi è piaciuta Eh Ti è piaciuta? Tantissimo I supereroi Contro la municipale Vabbè Dai Angelo Fatelo Dai eh Non ridi più La cosa che mi Che veramente Mi angoscia È che non ridi più Non sono più Guarda il ragazzino Spenserato in una volta Esatto Non ridi più Pazzesco Ormai Sei così serio Che hai fatto Angelo Tu in questo mese Di mia assenza Giocato a Warframe Ho provato il nuovo DLC Quello Pensavo tu avessi giocato Dal Raven E l'avessi finito Anche la sola è impossibile Cioè Come la sola è impossibile? Sì che ce la fai C'hai provato Non c'hai neanche provato La verità è quella Sì Non c'hai neanche provato Io ti conosco Angelo Io ti conosco Non c'hai provato Mi chiesti quello là di Marte Di Far Cry 5 A me non ispira Mattia è tutto È bellissimo Mattia È il Gianni Morandi Dei videogiochi Non so se Mi hai capito Cioè con le viette Effettivamente è carino C'hai fatto bene Beh ma non è la prima volta Che mi stupiscono Con Di fatto Dei DLC Che sono meglio Del gioco stesso Già Far Cry 3 Il Blood Dragon Se la giocava Sì infatti è da spassoso Cioè Infatti in Stile retro Stanno andando sulla 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 carriola Eh sì Ti seguo Dai niente ruti Sto registrando Ah no no Non ho ruttato comunque Ho avuto un zinghiozzo Esatto A me fa paura Posso dirti che mi fa paura? Capitao Sono stato individuato Basta dove andiamo? Cosa? Dove andiamo? Mazza Tranquilli eh Andiamo dall'altra parte Io sono qua sopra Il Ponte di Barak Guarda che sto cercando Di capire Se riesco a beccarne Uno da qua No Diamo un'occhiata Dentro Vai Pronto? Pronto? Dai non lanci una nuova Ho sbagliato Oh zio Guarda che là sopra C'è qualcuno Più di qualcuno Sono morti tutti Tanto per cambiare Che potessi fare Dock Dietro il muro Dove sei master? Qua sopra C'è doc Messo Mori uno E' una doc? No C'è Rook Scusami C'è Rook Che lo prendi facile Che è dietro il tavolino Dietro il tavolino O dove? A sinistra Visto? Sì ma non l'ho preso Prosta Mi sono perso a frost Qui dentro è libero E' qua Ok Tu da quella parte O da questa parte Aspetta Aspetta che sto cercando Di capire Dove cazzo Oh Sto arrivando Dimmi Angelo Che non sei morto No Sono vivo E' qua in fondo Ci ho fatto la sagoma Qua in fondo Dove? Cazzo Ha fatto il giro Preso 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 Mamma mia Angelo Quando c'è tension Nell'aria Siamo nella squadra I brodi E viva i brodi Angelo Ma se tu puo Ma cosa fai Per divertirti Quando sarai in vacanza? Ma non Mi hanno rubato le robe Prendi frost Bra Dai Pichiamo frost Chi di frost Ferisce Di frost Ferisce Finisce Dicevi? E quindi? E quindi? Quindi? Dove vai? Qui a Mondello C'è A Mondello A Mondello Non vai a Trapani A Trapani Ma perché dobbiamo andare a Trapani? Dici E' più vicino a Mondello Eh Infatti Tipo azzurri a Trapani Trapani Lo sapevo che c'era Quel pezzo di merda Quel pezzo di merda Soppevo che arrivavano Ero proprio Cioè Era proprio lui Io questi Questa la metto qua La 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 Non già qui? C'è un drone Da qui Che parte Mastra Li vado a scovare io Con Le ponte Che parte come si fa? una volta era molto più semplice cazzo non gli ho fatto niente con colpo di cazzo non gli ho fatto c'è un problema non lo trovo ultimo me ne ho trovato qui bravo say my name say my name ci hanno capito pulissimo qui ci starebbe un bel pene se non ci bannasse ah non si può dire neanche la parola aspetta eh beh meno male che c'è la fling org beh almeno si ho preso le pallotte dal posto mio c'è anche Alex Lariete che facciamolo tiriamo in mezzo dai beh dai facciamolo al prossimo video